Continuiamo la rassegna sulla best selection di fondi e comparte di investimento che replicano uno specifico tema che come potete vedere è il metaverso. Oggi ci soffermiamo e facciamo un outlook sul ETC Group Global Metaverse che è un ETF all'interno della categoria degli umbrella fund di un ETF sostanzialmente consente di poter essere disponibile e collocato sotto forma di categoria usage anche sui mercati italiani. Come potete vedere secondo il distributore questo specifico ETF sarebbe considerato uno dei migliori per la tipologia degli asset che tenta di replicare, non stiamo parlando di performance. Andiamo a vedere innanzitutto le caratteristiche distintive. Il ETF è quotato sia alla borsa italiana che all'Hondo Stock Exchange che anche alla borsa di Francoforte. Ma che cosa c'è qui dentro? Vale a dire, si sente tanto parlare di metaverso, io nel momento in cui vado a inserire un strumento finanziario in questo caso ho regolamentato, vado ad investire effettivamente in cryptoasset del metaverso? No, non si investe in cryptoasset, si investe in strumenti finanziari, tipicamente azioni, che come potete vedere stando alle caratteristiche distintive di questo ETF tentano di replicare un insieme di sottosettori che sono riconducibili al mondo del metaverso, metaverso addirittura anche globale. Qui possiamo vedere il campo della realtà virtuale, le grafiche 3D, semi conduttori, il gioco online, video streaming, le blockchain technology, includendo anche tutto quello che gravita attorno agli NFT, alle terre digitali, fino ad arrivare anche al data storage. Si tratta da questo punto di vista di un paniere azionario piuttosto ampio. È probabile, è possibile, che i titoli azionari che sono inseriti all'interno di questo specifico basket abbiano al loro interno alcune cryptoasset, quindi indirettamente ci potrebbe essere questo tipo di inserimento nel portafoglio. È un comparto molto giovane, come potete vedere lanciato quando il metaverso come tema era ancora particolarmente caliente. Adesso andremo ad analizzare l'indice che è fondamentale in questo caso per comprendere che cosa c'è lì dentro, perché essendo gestione passiva non si fa altro che andare a replicare l'andamento dell'indice sottostante. Il costo dello strumento in linea con le medie di settore, come potete vedere siamo grossomodo a 65 punti base, quindi 0.65% su base annua. Ed è interessante far notare che, pur essendo un comparto ad accumulazione, tutti i titoli nel loro complesso possono generare dei dividendi. Questi dividendi vengono poi distribuiti nel corso dell'anno e incamerati dal fondo, e il contributo di questi dividendi grossomodo dovrebbe essere stimato intorno al mezzo punto percentuale. Ovviamente non si va ad investire su questo tipo di strumento per il flusso di dividendi, ma per il potenziale di crescita. Il comparto è ribilanciato trimestralmente, cosa significa? che in relazione a quelli che sono anche le dinamiche di mercato e su chi sta effettivamente emergendo, vanno ad essere riposizionati i pesi nel loro complesso. Lo ricordiamo ancora una volta, rispetto magari ad altri ETF, abbiamo la compliance alla categoria USIS, quindi massima protezione per la tipologia dell'investimento nei confronti degli investitori europei. Questo non significa performance dello strumento, attenzione. Cosa è che, dal mio punto di vista, è ancora negativo su questo tipo di strumento a gestione passiva? Beh, al pari di altri che abbiamo analizzato, la raccolta, le masse gestite che sono in questo momento qui piuttosto irrisorie, irrilevanti, come potete vedere siamo appena a 6 milioni di dollari, anche se si tratta di un ETF specializzato su un comparto azionario molto specifico, non è che sta brillando per successo in termini, come sempre, di raccolta. Lo scopo di questi prodotti è quello di consentire un'esposizione diversificata a tutti coloro i quali credono nel metaverso nei prossimi anni attraverso un'unica allocazione al cui interno, che cosa troviamo? Troviamo un indice, un indice che è piuttosto noto nell'ambiente, che si chiama il Solactive Group Global Metaverse Index, Global Total Return, in cui sostanzialmente i dividend total return, vuol dire che tutto il flusso di dividendi viene reinvestito dal fondo che replica l'indice, e se andiamo a vedere che cosa c'è dentro, l'aspetto più importante, scopriremo che ci sono delle conoscenze ormai ridondanti, ad esempio troviamo Alibaba, Robinhood, Roblox, che è presente in quasi tutti i fondi, sia gestione attiva che gestione passiva, che replicano il tema del metaverso, Intel, Tencent, Meta, che è la vecchia Facebook, Shopify, Qualcomm, anche questa presentissima, Nintendo, Apple, Nvidia, Block, Oracle, PayPal, Alphabet, Amazon, Electronic Arts, piuttosto conosciuta nel mondo del videogaming, e così via discorrendo, sino ad arrivare a Microsoft, Netflix ed anche Mastercard. Ovviamente tutte queste allocazioni sono ribilanciate su base trimestrale dall'index advisor, quindi il soggetto che ha creato l'indice, e lo va a ribilanciare nella consapevolezza che nel tempo ci sono aziende che emergono sempre per quanto riguarda lo specifico tema del metaverso. Lo ricordo ancora una volta per evitare di creare fraintendimenti. Questo è un comparto a gestione passiva, un ETF, quindi a replica, sommessamente un benchmark che in questo caso è l'indice che abbiamo appena menzionato. I fondi raccolti in questo momento sono piuttosto modesti, quindi questo significa che nel corso del tempo, se non ci dovesse essere una raccolta più significativa, da parte dell'emittente ci potrebbe anche essere il ritiro stesso dello strumento con la liquidazione all'ultimo NAV disponibile. Il costo è in linea con la media di settore, ma a mio personale modo di vedere, visto che tante case di gestione stanno lanciando tantissimi comparti a gestione passiva, quindi ETF sul tema del metaverso, probabilmente ha più significato in questo momento prediligere la gestione attiva. Che cos'è la gestione attiva? Un fondo comune di investimento in cui una determinata casa di gestione investe e sceglie i titoli non sulla base di un indice statico come il Solactive che abbiamo appena visto, ma discrezionalmente va ad aumentare i pesi di quelle che sono, a suo modo di vedere, le aziende potenzialmente più in grado di offrire capacità di remunerazione, ovviamente all'interno del tema del metaverso. Quindi come potete riepilogarlo, la realtà virtuale, includendo anche quella aumentata, tutte le infrastrutture per le digital economy, i marketplace che consentono ad esempio di swappare o vendere gli NFT, tutta l'industria del gaming, fino ad arrivare anche ai digital, ai pagamenti digitali, quindi ricorrendo a cripto. Siamo, a mio modo di vedere, in prossimità di un cambio epocale, perché si passerà, anzi si passerà, stiamo già passando dalla cosiddetta new economy alla digital economy. Io più di vent'anni fa ho vissuto in prima persona il passaggio dalla old economy alla new economy, parlo finanziariamente parlando, e adesso stiamo assistendo a qualcosa di similare. Continueremo nelle prossime settimane a effettuare ulteriori approfondimenti su altri comparti che stanno venendo lanciati in questi ultimi mesi proprio sul tema del metaverso. Trovate in descrizione il link all'emittente per scaricare il kid e il prospetto del fondo è comprendere appieno i rischi che si corrono quando si va ad inserire sia strategicamente ma anche tatticamente un strumento finanziario con queste caratteristiche.